fermi fermi ciao ciao ragazzi ciao a tutti noi siamo mark zitti fratelli coltelli stiamo in questo tour mondiale giriamo un po tutti i paesi e oggi ci troviamo proprio a dubai questa è dubai marina la skyline siamo ad un bellissimo evento vi salutiamo tutti quanti sempre fieri di portare il made in italy in giro e la musica internazionale a diciamo con il gusto dell'italian touch siamo qui per voi vi presento la band di questo bellissimo tour andrea feliciani alla batteria adam long al sax giacomo dominici al contrabbasso emanuele finanti al piano e il maestro giulio spinozzi alla tromba per voi marco zitti e i fratelli coltelli grazie a tutti buona sera a tutti